Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi siamo qua per andare a shoppare una skin della mischia lunare Che costa uno sfraccello di gemme ma anche se costa così tanto è molto valida Anche se comunque lasciamo perdere quanto costa Sto parlando di 8 bit malware Ma c'è dentro il virus? Eh lui c'è dentro il virus Oggi andremo in più anche a portare l'8 bit a 5.50 per prendere i punti stellari anche con lui Vi faccio vedere prima di comprare la skin i brawler che ho pushato in questa season Anche provo e vedrete probabilmente una season dopo ma va bene Noi ce la faremo andare bene Allora bombardino a 7.50 Dynamike a 6.50 Bo, Porcio, Tic, Stecca, Sandy a 600 E poi tutti gli altri, quelli che riesco a portare a 5.50 Cioè sto facendo conto di i brawler così Tranne che con quelli un po' più bassi E quelli completamente giù che devo ancora imparare ad usare Perché ad esempio Bea proprio non la so usare Mortis tanto meno però vabbè lasciamo perdere Non ci mettiamo in chiacchiere Andiamo subito nel negozio E andiamo a comprare la skin di 8 bit malware Vai 300 gemme Va, guarda, guarda È bellissima È strabella Allora poi BB Eroina e Tara Ninja Urbana non mi interessano Quindi non le prenderò Andiamo subito a impostare la skin di 8 bit Non ho quella rossa io Andiamo subito a impostarlo E direi subito di partire con sopravvivenza in duo E cerchiamo di fare queste 13 coppe Avete visto? Cosa? È anche il mio po' c'ho maxato Ah il suo po' c'ho maxato Vabbè dai Iniziamo la partita E partiamo subito con la prima partita In sopravvivenza in duo Tu vai sotto e vado sopra Perfetto Stavamo proprio dicendo così C'è un colto da te E cerca di non farti uccidere C'è il piacere Va, che bella Guarda che bella Lascia la scia verde dietro E i colpi sono diversi Bella Ah comunque mio fratello ha messo il pocio Perché è l'unico bollo del maxato che ha Ok, allora qua Mannaggia a te, mannaggia Io ho il succhetto Quindi posso andare a far danni Mannaggia Guarda come non so usarlo Mamma mia Mamma mia Campera Vai camperartela subito Qua prevedo un bruttissimo calo di coppe Però siamo ancora in vita Siamo in tre squadre Quindi perdiamo zero Camperiamo Noi non ci interessa far vedere Che siamo dei pro player Ci interessa vincere le coppe Quindi con due power up lui E io con zero Perché sono morto Uh c'è un succhetto sopra Mi direi di andare Vai avanti te che c'hai più power up Quindi probabilmente Vabbè neanche troppa vita in più Vai 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 Prendi 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 Subito 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 Mettiamola Aia 11 power up Ma chiaro Ti ha Baccato le gas Ti ha Spaccato Noo Faceva la L'animazione L'ho bloccata Va bene Facciamo subito un'altra Speriamo di non fare zero coppe Perché altrimenti Non va bene così Cacchio Va bene Però Le vorrei fare le coppe Io in effetti Vabbè Se facciamo ancora zero coppe Almeno vediamo anche l'animazione E cercherò di non schipparla Lug Lug Non va bene Vai 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 C'è Quella Signor Signor Sandy Scusa Ok Fatto fuori Sandy Io intanto Dobbiamo ricordare Che è un maschietto Nonno femminuccia Mi sta laggando E anche a me Quello è un problema E Penny Probabilmente è con No È con Shelly Ah ok Io sparo E Cosa vuol dire Non sparare a ulti Fa 800 eh Vi devo spiegare le cose Perché ancora lui non lo sa Ce l'ha da poco Quindi Annaggia Andate a vedere Il video mio Forse non si ricorderà mai Di lasciare Mi ricorderò mai Sicuramente Non è che Magari Che è proprio da non guardare Perché se lo guardate È una brutta cosa Ok Ti ho detto Fa 800 Mi devi Se mi curavi Magari potevo andare a pushare Ok 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 Io sto rischiando di morire Questo è vero E Dov'è che sta Piper Scusa un attimo L'ho pregato Il succhietto Il succhietto Che caspita è Vai 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 Ok Vai easy easy win Vai Easy win Dai No Ok Va bene Più 9 Ok L'animazione Quella quando vinci È uguale a quando la compri Quindi va bene Ci togliamo il dubbio Mancano 4 coppe Ok Vabbè Più 7 Non basta Lo stesso Ne mancano altre 3 Porca miseria Ne mancano altre 3 Quanto è faticoso Fare 10 coppe Su 8 bit È complicatissimo Comunque Niente a dire Con la skin Che cosa c'è È spettacolare Fatevi sapere Se l'avete compato Anche voi Anche se Comunque so Che costa parecchio Però 22 euro Possiamo dire Ne vale la pena Anche se è un gioco Non lo so Dai però Mortis Muori dai Ma mortis tua E vabbè però Ma Allora Tu mi muori sempre Chissà come mai Tu mi muori Adesso l'hai detto C'è una bea con me Aia Io sto un po' in pericolo Sto un po' in pericolo Perché C'è tutta gente Con 18.000 power up E noi abbiamo 3 Vieni 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 Va Oh Eh ma non ti conviene Non ti conviene andare Ho detto io Non ti conviene andare Mannaggia te Ok 3 squadre 3 squadre 3 squadre Ok Dai che ci cacciamo giù Ancora la victoria Ci cacciamo giù Il corvetto Vai No No quella no Ma io no Se non lo dicevi Magari Allora Vai te infatti Puzzona Eh Stai calmo Che non hai vita Stai Stai calmo Guarda come apre le gambe Le trovi presente Ui Stai calmo eh Questo è il mio video E ci cacciamo giù Lascieli Allora abbiamo fatto Un piccolo Cando Siamo qui bloccati Per tre partite Quindi abbiamo Cambiato Shelly Con il signor Leon Livello Uno Che è più forte Di Shelly Che è appunto In effetti Vediamo come va Mancano due coppe Anche perché Come avete capito Abbiamo Droppato Riportato su Quindi una coppa In più Rispetto a Prima Ok Guarda Guarda Se si carica il colpo E si one shotta Praticamente Minnaggia Quella Quella Ma Scusa Entrata me E' uscito a corvo Eeeh Trasformazioni Non è Transformer Allora Io questo Corvo Lo potrei anche Pusciare Tanto quello Ha poca vita Quindi Chi se ne Facciamo una cosa Spera che pusci Attenzione Attenzione Ok Tre squadre Attenzione Come tre squadre Eeeh Scelli Aia Penny Aia Mortaio su sto cavolo Di mortaio Mortacci la Penny Ok Prendi il succhetto Invisibile Non puoi essere Ok Aia Dici Pavora La panna Anche loro Non scherzano Noi Calma 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 State Sessate Buoni Sessate Buoni Mi I Fratelli Miei Tu già vai Che fuma la torretta Tengo lontano Lotto Bit Tanto non Viene da te Perché ha paura Ho fatto Il giro Invisibile Guarda come muoce Boom Boom Olè Olè Finalmente Io direi Finalmente Vai Applauso Applauso Assolutamente Che è stato Un casotto Portare su sto 8 bit 5,57 Non male Andiamo a pagare Con una cassetta Vai Avete da installare Magari Ce la desse Ragazzo Il video Si può Concludere Qua Non ho messo Nega la transizione Ma Non ci interessa Vi Appunto Vi ricordi Scrivi al canale Della campagna Per essere sempre attivi Sui miei video Del mio canale Le live Per il momento Sono bloccate Per un motivo Che Devo risolvere Quindi Va bene Non ci si vede Con il prossimo video Vi ricordo anche Il link Iscrizione Del canale Del mio fratello E del video Che ha fatto Su quello Che ha trovato Non ci si vede Con il prossimo video E bella ragazzi